C'era una volta l'Imu, poi dopo una breve illusione ottica in cui era stata eliminata sulla prima casa, è stata sostituita dalla Tasi, una tassa in alcuni casi ancora più cara. A Lecce, secondo i dati del rapporto UIL, Servizio Politiche Territoriali, il costo medio dell'acconto Tasi è tra i più alti fra i capoluoghi di provincia pugliesi. Nel capoluogo barocco la spesa media annua per la Tasi sulla prima casa è di 203 euro, con un acconto di 102 euro per effetto dell'aliquota 2,5 per mille e delle detrazioni di 50 euro per abitazioni accatastate in A3 e di 100 euro per abitazioni accatastate in A4 e A5. Queste detrazioni sono raddoppiate in caso di nuclei familiari in cui è presente un portatore di handicap in situazione di gravità titolare di indennità di accompagnamento. A Bari il costo annuo medio per la Tasi sulla prima casa è di 338 euro, 169 euro di acconto per effetto dell'aliquota 3,3 per mille con varie esezioni in relazione al reddito. A Brindisi è di 134 euro, 69 euro di acconto con aliquota all'1,5 per mille ma nessuna detrazione. A Taranto è di 188 euro, 94 euro di acconto con aliquota al 2 per mille. Anche qui nessuna detrazione. affoggia 126 euro, 163 euro di acconto con aliquota al 3,3 per mille ma sono previste detrazioni ed esenzioni. È vero che nella spesa pubblica degli enti territoriali ci sono margini di razionalizzazione ma, afferma il segretario generale della Uile di Lecce Salvatore Giannetto, il governo centrale non può continuare nei tagli lineari ai comuni le cui conseguenze negative si ripercuotono inevitabilmente sui cittadini e lo stesso governo non può certo girare la testa dall'altra parte quando la pressione fiscale a livello locale aumenta per effetto di minori trasferimenti. Sul fisco locale continua il segretario Will, servono certezze. Secondo Antonio Rotundo, consigliere di opposizione invece, le colpe sono anche dell'amministrazione locale che non abbassa le aliquote perché fa pagare ai cittadini gli sprechi passati come Filobus, Bocca e Via Brenta. I democratici chiedono l'abbassamento delle aliquote. Intanto, entro il 16 giugno dovranno essere pagate Tasi e Imu, ma entro il 16 dicembre, data fissata per il saldo, la Giunta può sempre deliberare un abbassamento delle aliquote. Attilio Monosi, assessore al bilancio, però invita tutti a non farsi illusioni. Lo Stato ha introdotto la Tasi perché non voleva più pagare di tasca sua il rimborso per l'abolizione dell'Imu sulla prima casa. Per poter avere un gettito equivalente a quello che prendevamo prima dell'abolizione dell'Imu spiega. Abbiamo bisogno di applicare il massimo dell'aliquota, come hanno fatto la maggior parte dei comuni. Non c'è possibilità di intervenire sulla leva fiscale. È inutile essere ipocriti e demagogici. Potremo abbassare le aliquote solo quando lo Stato, che ha chiuso i rubinetti, allenterà la mozza sui comuni.